ciao a tutti oggi prepareremo i fusilli con salsiccia funghi e gorgonzola il tempo di preparazione della ricetta è di 45 minuti circa gli ingredienti sono pasta tipo fusilli salsiccia senza butello funghi misti panna da cucina gorgonzola piccante olio evo cipolla sale e pepe diamo il via alla ricetta iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale la cipolla ed azionare bimbi per tre secondi a velocità 7 riunire sul fondo del boccale con la spatola aggiungere l'olio ed insaporire per quattro minuti 120 gradi velocità 3 riunire sul fondo del boccale con la spatola aggiungere la salsiccia ed azionare il bimbi per cinque minuti 100 gradi velocità 1 aggiungere i funghi cuocere per 10 minuti 100 gradi anti orario velocità soft nel frattempo cuocere la pasta in abbondante acqua salata e scolarla al dente aggiungere il gorgonzola la panna un pizzico di sale e il pepe ed azionare il bimbi per tre minuti 100 gradi anti orario velocità soft condire la pasta e servire fusilli con salsiccia funghi e gorgonzola grazie e alla prossima ricetta grazie a tutti grazie a tutti